Di Federico De Roberto, i vicere. Voce di Lorenzo Pieri. Libro terzo. Capitolo sesto. Prima parte. Uno dei primissimi provvedimenti del giovane sindaco appena insediato al municipio era stato quello relativo alla costruzione di un'aula per le riunioni consigliari. All'antica saletta fu sostituito un gran salone provvisto di due file di banchi che per gradi si elevavano dal suolo ad anfiteatro con tre ordini di posti per ciascuna fila. In fondo al salone una specie di alto e vasto pulpito comprendeva a destra in basso i posti della giunta in alto quello degli scrutinatori e la poltrona destinata al prefetto. A sinistra l'ufficio di segreteria nel mezzo di tutta la baracca sopra un'altra predella il seggiolone sindacale dorato e scolpito con un cuscino che l'usciere toglieva e chiudeva a chiave quando il principino scioglieva l'adunanza e se ne andava. Nel centro del salone un gran banco per le commissioni più oltre tavole per la stampa di rimpetto al pulpito sindacale la tribuna pubblica. Un parlamento in miniatura dicevano quelli che erano stati a Roma e le adunanze del consiglio sotto la presidenza di Consalvo prendevano ora un vero carattere parlamentare. L'ordine del giorno che prima attaccavano manoscritto dietro un uscio si distribuiva stampato a tutti i consiglieri. Un apposito regolamento elaborato dal sindaco prescriveva le norme da seguire nelle discussioni consigliari. Gli oratori non potevano parlare più di tre volte sopra uno stesso soggetto al segretario era rigorosamente vietato di interloquire neppure per rispondere alle domande dei consiglieri e se qualcuno di costoro aveva da lagnarsi della sporcizia stradale o dei cani senza guinzaglio il principino gli gridava dal suo seggiolone presenti domanda d'analoga interpellanza. Prima cura della nuova amministrazione furono i lavori pubblici. Il sindaco in un discorso dove rammentò la via Appia che da Roma conduceva all'Adriatico dimostrò la necessità di sistemare le strade e la città fu messa sotto sopra. Somme considerevoli furono spese per indennizzare i proprietari danneggiati ma la vistosità dei risultati fruttò considerevoli elogi al giovine amministratore. Con le strade l'amministrazione di Mirabella come tutti la chiamavano provvide alla costruzione d'un grande mercato d'un grande teatro d'un grande macello d'una grande caserma d'un gran cimitero. Nuovi edifizi sorgevano dappertutto il lavoro non cessava la città trasformavasi le lodi del principino salivano al cielo. Qualcuno timidamente faceva osservare che tutte quelle cose stavano benissimo ma e i quattrini ce n'erano abbastanza. Consalvo rispondeva che il bilancio d'una città in via di continuo progresso presentava tale elasticità da permettere non che quelle ma spese anche maggiori. La popolarità essendo tutta sua egli faceva degli assessori ciò che voleva. Se manifestavasi qualche velleità di contraddizione l'assedava suscitando gli uni contro gli altri coloro che s'accordavano nell'opposizione. Oppure quando la faccenda era più seria minacciando di andarsene. Allora tutti si chetavano e di quel che riusciva bene egli aveva tutto il merito. Di quel che non otteneva l'approvazione del paese egli gettava la colpa sulle spalle della giunta. Le tornate consigliari erano diventate uno spettacolo a cui grazie alla tribuna pubblica la gente accorreva come alla commedia o al gioco dei bussolotti. I soci del club, gli ex compagni di Bagordi del principino salivano di tanto in tanto lassù con l'intenzione di canzonarlo ma la serietà, il sussiego, l'autorità di Consalvo li sgominava talmente che essi arrischiavano appena tra loro qualche epigramma. Chi rammentava più la prima fase della sua vita, la sua riuscita lo insuperbiva, la sua forza quasi lo stupiva ma ormai non era sicuro di poter arrivare dove avrebbe voluto. Sarà deputato, lo manderemo a Roma quando avrà gli anni, in lui c'è la stoffa d'un ministro, cominciavano a dire in città, ma se udiva queste cose egli scrollava le spalle con un sorriso mezzo di compiacimento, mezzo di modestia, quasi a significare grazie della buona opinione che avete di me ma ci vuole altro. Così egli si teneva bene con tutti, raccoglieva lodi da ogni parte. Quelli che s'accorgevano del suo gioco e lo denunziavano o non erano creduti o erano sospettati di invidia o di malignità o finalmente se trovavano credito sentivano rispondersi fanno tutti così in questi tempi d'armeggio. Il principino ha questo di vantaggio che è ricco e non ha da ingrassarsi alle spalle nostre. Ma gli oppositori più vivaci non mancavano. Come trasformavasi materialmente la città prendeva anche moralmente un nuovo indirizzo. La popolarità del vecchio duca andava scemando di giorno in giorno. Il circolo nazionale che aveva spadroneggiato perdeva sempre più credito. Le nuove società popolari non ne avevano ancora ma le riforme promesse dalla sinistra l'avrebbero loro conferito. Frattanto alla discussione dei negozi pubblici partecipavano classi e persone dapprima incapaci di comprenderne nulla. Anche la stampa era più ardita se non più libera e trattava con pochi riguardi gli antichi spadroneggiatori. Il principino fiutando il vento sfoggiava coi democratici le sue idee di democrazia. A udirlo la libertà, l'eguaglianza scritte nelle leggi erano ancora un mito. Avevano cullato il popolo nell'opinione che le antiche barriere fossero state infrante. Ma i privilegi esistevano sempre ed erano soltanto d'altra natura. Avevano largito il diritto del voto e questo era parso una rivoluzione. Ma quanti godevano di cotesto diritto? Bisognava dunque farne un'altra. legale e morale per estenderlo a tutti. La parola rivoluzione gli scottava le labbra e gli faceva tremare il cuore. E il desiderio intimo, sincero, ardente dell'animo suo era che vi fosse un numero di carabinieri doppio di quello dei cittadini. Ma poiché il vento soffiava da un'altra parte, egli cercava la compagnia dei radicali più noti per dir loro, la Repubblica è il regime ideale, il sogno sublime che un giorno sarà realtà, poiché essa suppone uomini perfetti, virtù ad amantine e il costante progresso dell'umanità ci fa antivedere il giorno del suo compimento. E dichiarava, io sono monarchico per la necessità di questo periodo transitorio. Milioni e milioni d'uomini liberi possono volontariamente riconoscersi e vantarsi i sudditi di un uomo come loro. Io non ho nessun padrone. Ed in questo era sincero, perché avrebbe voluto essere egli stesso padrone degli altri. Il duca e i suoi malvacei amici, ostinandosi a giurar sulla destra, aspettando il ritorno di Sella e Minghetti come quello di Nostro Signore, avevano creato una associazione costituzionale, di cui tuttavia l'onorevole deputato non aveva voluto essere capo. Anch'egli adesso, in cuor suo, riconosceva che la strada non aveva uscita. Ma oramai egli stava per toccare la settantina, era stanco, non gli restava più nulla da fare. In meno di venti anni aveva messo insieme una fortuna di due milioni, le cure della quale richiedevano tutto il resto della sua attività. Deciso veramente a ritirarsi dalla vita pubblica, aveva un'ultima ambizione, quella d'esser nominato senatore. Se quindi, per finir bene dinnanzi all'opinione pubblica, non gli conveniva abbandonare bruscamente il partito al quale dopo il 76 si era legato ancora più stretto, non gli conveniva neppur muover guerra troppo aperta a quella sinistra da cui aspettava la seggiola a Palazzo Madama. Quindi aveva dato a Benedetto Giulente la presidenza della Costituzionale, contentandosi del posto di semplice gregario. Frattanto, contro questa società era sorta una progressista, alla quale si era fatto ascrivere con salvo. Zio e nipote l'un contro l'altro armato, il ragazzo che si ribella al vecchio, dicevano in piazza. Ma le eterne malelingue soffiavano che la cosa era fatta d'amore e d'accordo, che il duca era ben contento d'avere un nipote nel campo contrario, come il principino si giovava del credito dello zio tra i conservatori. Del resto, quantunque socio della progressista, egli dichiarava a questi ultimi che la sinistra non aveva ancora un finanziere della forza del Sella, né oratori eleganti come Minghetti. Ma a quelli che non nascondevano i disinganni prodotti dal regime costituzionale, egli non aveva nessuna difficoltà a dichiarare l'errore è stato di credere che potesse dare buoni frutti. Il gregge ha sempre avuto bisogno d'un pastore, con relativi bastoni e cani di guardia. Egli dava ragione perfino a quei pochi che rimpiangevano l'autonomia della Sicilia. Diciamolo francamente fra noi, forse oggi staremmo meno peggio. Non avrebbe fatto nessuna difficoltà a concedere alla zia Ferdinanda che il governo borbonico era il solo amabile, ma poiché la vecchia non poteva giovargli, lasciava che la cantasse. Anzi, si giovava di quell'opposizione, nonché della rottura col padre. Siccome sapeva che molti, udendo celebrare la sua fede democratica, ridevano d'incredulità esclamando lui, il principino di Mirabella, il futuro principe di Franca Lanza, il discendente dei vicere, andiamo. Egli affermava, per questa fede, per questi principi, io sono venuto in urto con mio padre, ho rinunciato all'eredità di mia zia, sosterrei ogni maggiore avversità. Nella giunta, tra i conservatori aristocratici e i radicali progressisti, di tanto in tanto s'accendeva una lite. Allora egli esclamava, qui non bisogna far della politica, ma una volta che la contesa divenne più vivace, lo tirarono in ballo. Rizzoni, radicalissimo, esclamò, ma domandatelo al principino se l'avvenire non è nostro, se anche egli non è democratico. Mio nipote, rispose Benedetto Giulente, l'aristocrazia incarnata? Costretto a rispondere, egli sorrise, si lisciò i baffi, e disse, l'ideale della democrazia è aristocratico. Come, sentiamo, questa è nuova, che diavolo? Esclamarono tutti. Egli lasciò che dicessero, poi ripete, l'ideale della democrazia è aristocratico. Che cosa vuole, infatti, la democrazia? Che tutti gli uomini siano eguali, ma eguali in che cosa? Forse nella povertà e nella soggezione? Eguali nelle dovizie, nella forza, nella potenza? E poiché dopo un momento di stupore le esclamazioni ricominciavano, egli troncò di botto la discussione. Adesso passiamo all'altro articolo. Voto al governo per la costruzione d'un bacino di carenaggio. Egli andava adesso qualche volta da suo padre. non aveva più avversione contro di lui. Lo zelo, la febbre con la quale s'occupava della cosa pubblica, la tensione di tutte le sue energie al conseguimento del proprio ideale, non lasciavano posto a nessun altro sentimento né d'odio né d'amore. Quanto al principe, le visite del figliuolo gli mettevano i brividi addosso, ed appena lo udiva annunziare dal nuovo maestro di casa, poiché Baldassarre, cocciuto come un vero uzeda, era proprio andato via. Ficcava la sinistra in tasca e non la traeva se non per spianarla, aperta col segno delle corna, dietro al figliuolo. Ficcava la sinistra in tasca e non la traeva se non per spianarla, aperta col segno delle corna dietro al figliuolo, quando costui si decideva a sgomberare. I loro discorsi s'aggiravano sopra cose indifferenti, come fra estranei. Il principe fingeva non sapere che Consalvo fosse il primo magistrato civico, ma insomma adesso stavano insieme da cristiani. Teresa, ora duchessa Radalì, vedeva in tal modo compensato il proprio sacrificio, eccettuati i primissimi tempi, quando la memoria di Giovannino non era interamente morta nel suo cuore e più grande le era parsa la superiorità di lui sull'altro fratello, ella non aveva del resto sofferto quanto aveva temuto. Il duca Michele non solo la trattava bene e le lasciava ogni libertà, ma le dimostrava, a modo suo un po' alla grossa, un affetto vivo e sincero. La duchessa madre, anche lei, dalla soddisfazione di vedere riusciti i propri disegni, le faceva gran festa e la metteva perfino a parte del governo della casa. Il barone se n'era andato ad Augusta, badava gli affari di campagna e scriveva due o tre volte al mese al fratello o dalla madre, chiudendo le sue lettere con un saluto la cognata. La tranquillità che regnava nella sua nuova casa, la pace che ristabilivasi nell'antica, l'affezione del marito, i trionfi di Consalvo, le lodi che raccoglieva ella stessa, poiché tra le giovani signore aveva occupato subito il primo posto, facevano fiorire sulle sue labbra sorrisi a grado a grado più schietti. Veramente, ella non sentiva più l'anima disposta a comporre musiche o poesie, ma sedeva ancora spesso al pianoforte per esercitarsi e nel farsi bella spendeva forse maggiori cure di prima. Adesso era libera di leggere i libri che più le piacevano e quando non aveva nulla da fare divorava romanzi, drammi e poesie. L'eccitazione di quelle letture non le impediva però di attendere alle pratiche religiose con zelo e fervore. In casa Radalì venivano lo stesso monsignor vescovo, lo stesso vicario, gli stessi prelati che frequentavano la casa del principe. Egli additavano a tutti la duchessa nuora come modello di domestiche e cristiani virtù. Presto la gravidanza le fece dimenticare del tutto i sogni del passato e l'affezionò meglio alla realtà del presente. Soffrì pochissimo durante la gestazione, il tempo volò rapido in mezzo a tante cure e a tanti pensieri. Il parto fu felicissimo, tutti aspettavano un maschio e un maschio nacque, un bambino grosso e florido che pareva d'un anno. Poteva essere altrimenti, dicevano tutti, per una figlia e una sposa buona come lei protetta da una santa in cielo. I preparativi del battesimo furono grandiosi. Il duca volle il fratello come padrino. La duchessa madre approvò. Teresa riposando sul letto nuziale dove restava più per una beata indolenza che per necessità, disse che naturalmente la scelta non poteva essere migliore. Giovannino tardò a rispondere, ma sollecitato dal duca anche a nome della madre e della moglie arrivò alla vigilia della cerimonia. Pareva un altro uomo. Si era fatto più forte, il sole lo aveva abbronzato, la barba cresciuta gli dava un'aria più maschia, simpatica quanto l'antica ma in modo diverso. Strinse la mano alla cognata, chiedendole premurosamente notizie della sua salute e volle veder subito il nipotino che giudicò un amore e baciò e ribaciò fino alla sazietà. Ancora più calma e serena di lui, ella lo accolse come un amico che non si vede da molto tempo. Dopo la cerimonia del battesimo, alla quale furono invitati tutti i parenti stretti e larghi, tutte le conoscenze, mezza città, Giovannino annunziò che ripartiva. Fecero a gara per trattenerlo, ma egli dichiarò che c'era molto da fare in campagna e andò via, promettendo ad ogni modo di tornare presto a rivedere il figlioccio.